Dopo tutto questo tempo, vieni a farmi visita fratello, perché? Per schernirmi? No, no, tranquillo fratello, di passaggio, scusa. Alcuni credono che prima dell'universo ci fosse il nulla, ma sbagliano. C'era l'oscurità ed è sopravvissuta. Oddio. Che succederà? Che faccio? Lo cerco su Facebook? Se volete lo scuoto anche. Oh raga, da quindi? Non è successo niente? Non cacca. Oh, il tuo coraggio non lenirà il tuo dolore. Il tuo mondo saranno cancellati. C'è poco tempo. La struttura stessa della realtà verrà distrutta. Sti su serio? Riuscirò a salvare tutti noi. Thor! È immortallo! Grazie, Todd.